Torna nella sua seconda edizione di Piacenza Classica, festival di musica da camera organizzato dall'Associazione Pierluigi Brichi per i bambini in collaborazione con l'amministrazione comunale. In tutto sette concerti, dal 14 aprile al 14 maggio, con alcuni big del concertismo internazionale. I direttori artistici del festival, Monica Righi e Ivan Maliboschka, hanno tracciato il perimetro dentro il quale si svilupperà il percorso della manifestazione, che sarà ospitate in alcuni luoghi simbolo della cultura piacentina, dal Teatro San Matteo alla Galleria Riccioddi, dall'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese. Si svolgerà nell'arco di un mese, quindi iniziamo il 14 aprile a San Matteo e finiremo il 14 maggio sempre a San Matteo con due date in sale diverse, ossia Galleria di Riccioddi il 23 aprile e Cappella Ducale di Palazzo Farnese. Il 7 maggio, quindi, oltre al coinvolgimento dei giovani artisti e artisti di fama internazionale, c'è anche l'obiettivo di poter usufruire delle sale più rinomate e più belle della città di Piacenza. Quest'anno abbiamo inventato tanti musicisti di fama internazionale, come Sergio Lamberto, il primo violino dei solisti di Pavia, e anche della Friarmonica di Torino, Marco Decimo, l'insegnante del nostro conservatore di Piacenza, uno che ha lavorato per tanti anni con la Friarmonica della Scala, Davide Cabassi e Tatiana Lareonava, due pianiste strepitosi, il quartetto Klimt e Mireia Mada. Vi aspettiamo ai nostri concerti, direi perché abbiamo preparato un programma davvero magnifico.